ragazzi e ragazze buongiorno oggi andiamo a fare dei tagliolini al limone e crema di parmigiano andiamo a vedere gli ingredienti a crema di parmigiano e limone serviranno mezzo chilo di tagliolini, mezzo limone, buccia e succo, 200 ml di panna, 2 cucchiai di crema di parmigiano del parmigiano lattugiato, una noce di burro, un po' d'olio d'oliva e del prezzemolo mettiamo sul fuoco dell'acqua salata a pulire e nel frattempo mettiamo la noce di burro e la noce di burro e la noce di burro e la noce di burro tra gli ingredienti ho dimenticato un po' di cipolla di protea stagliata appena finata mettiamo la noce di burro e la noce di burro e le e si leggerà la nostra panna lasciamo andare lentamente lentamente e si leggerà la nostra panna e si leggerà la nostra panna e si leggerà la nostra panna potete mettere anche un pochino di pepe che è diventato a questo punto aggiungiamo anche il limone un pochino di pezzemole la nostra crema di marco di farinziano scoliamo un pochino di vino e poi andiamo un pochino di marco e poi un pochino di marco e poi poi un pochino di marco e poi un pochino di marco e poi iniziamo la parte delle giovani e poi un pochino di marco e poi un pochino A presto. no non la parte già no 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 un pizzicino di pezzemolo no e un filino Grazie a tutti